Sono bastate 24 ore di vendita libera per gli abbonamenti della Juventus stagione 24-25 per superare il totale degli abbonati nella stagione 23-24. Come riportato da Calcio e Finanza su informazioni dirette Juventus, il giorno dopo l'apertura della vendita libera, 12 giugno 2024, per gli abbonamenti, non solo già in precedenza nella fase di rinnovo si era superata la percentuale di rinnovo dell'anno precedente sull'anno ancora prima, ma adesso si è già superata la quota di poco più di 17.000 abbonati registrata come tetto massimo nella stagione precedente. Su 20.000 abbonati nella stagione precedente alla 23-24, infatti solo 16.000 rinnovarono l'abbonamento, 4.000 abbonamenti buttati, 4.000 abbonati dispersi. E in ulteriori settimane, fino a campionato iniziato abbondantemente inizio settembre, la Juventus riuscì a strappare solo qualche altro migliaio di abbonati, arrivando praticamente in realtà poco sopra 17.000, quindi qualche centinaio di abbonati in più. Insomma, una quota bassissima, seguita poi dai mini pacchetti di vendite di più partite e dai mini abbonamenti per il giugno di ritorno, ma fondamentalmente non riuscendo neanche lontanamente ad avvicinarsi alla quota di abbonati della stagione precedente, della stagione appunto 22-23. Considerando che in origine c'era stata invece una quota di abbonamenti alla Juventus vicina al tetto massimo, sono 41.000 i posti all'Allianz Stadium, considerando anche i settori per cui non viene messo in vendita l'abbonamento, è il settore ospiti e il tetto massimo raggiunto per gli abbonati fu di 27.700 qualche anno fa. Un crollo inarrestabile con la scorsa stagione dove veramente si era toccato il minimo e non c'entrava nulla il fatto che non ci fosse la Champions League perché gli abbonamenti hanno sempre riguardato soltanto le 19 gare casalinghe di campionato. Al massimo con una prelazione per la Champions League e qualcosina per la Coppa Italia che però comincia a gennaio e sono tutte gare eliminazione diretta, quindi può durare anche una partita sola per un massimo di 4, considerando che la semifinale è andata in ritorno e normalmente la Juventus gioca sempre in casa la gara eliminazione diretta mentre la finale è all'Olimpico di Roma. Insomma, come si poteva giustificare il crollo degli abbonati e dei rinnovi degli abbonamenti nella stagione 23-24 se non con una disaffezione data dalla conferma dell'allenatore precedente e dal gioco che non piaceva e che si sapeva che non sarebbe piaciuto. E questo boom di abbonamenti come si può giustificare oggi visto che non c'è nessuna ufficialità di calciomercato mentre invece è stato ufficializzato il nuovo allenatore. Tiago Motta, ufficialmente nuovo allenatore della Juventus proprio il giorno, il giorno del lancio, della vendita libera e quindi in quelle ore ecco che si ha l'entusiasmo che deriva da quello, evidentemente deriva da quello i nuovi abbonati che non erano abbonati in precedenza e che magari erano abbonati negli anni prima ma che avevano mollato probabilmente si spiegano proprio con l'annuncio ufficiale di Tiago Motta. Il prossimo allenatore della Juventus sarà Tiago Motta benvenuto mister Tiago Motta l'annuncio ufficiale in attesa anche della presentazione ma la notizia che tanti stavano aspettando è stata sicuramente uno stimolo in più per abbonarsi anche perché andando a vedere i prezzi non sono aumentati anzi a tratti sono anche diminuiti in alcuni settori e l'unica novità perché il pacchetto base e il pacchetto full comprendono praticamente gli stessi vantaggi anche per quanto riguarda prelazioni, rivendite, cambio nominativo eccetera è il nuovo pacchetto star che comprende cinque gare in più cioè la prima gara della Coppa Italia, gli ottavi di finale e le quattro gare casalinghe di Champions League un pacchetto sicuramente molto interessante ed effettivamente riporta Calcio e Finanza che quasi la metà degli abbonati che hanno rinnovato hanno scelto proprio il pacchetto star o comunque quasi la metà degli abbonati 41% degli abbonati ha scelto il pacchetto star e quindi sicuramente questo è stato un incentivo nello stesso abbonamento o anche quattro gare di Champions League più una di Coppa Italia e non soltanto le 19 di campionato a condizioni tra l'altro molto vantaggiose per quanto riguarda il cambio nominativo il numero di utenti che possono utilizzare lo stesso abbonamento e altri vantaggi e altre condizioni ma solo per il 41% può essere stato questo l'incentivo per gli altri l'incentivo quale è stato vuoi vedere che il calcio anticalcio medievale che si praticava la scorsa stagione oltre a essere brutto e inefficace cioè non vincente faceva anche perdere soldi vuoi vedere che avevano ragione quelli dello stadium vuoto vuoi vedere che avevano ragione quelli che dicevano che così la tifoseria si sarebbe disaffezionata avrebbe smesso di andare allo stadio e che una certa scelta su un certo allenatore avrebbe comportato anche perdite di ricavi e vuoi vedere che quei giornalisti che sventolavano il questa partita è sold out Allianz Stadium sold out contro la squadra X per fomentare e alimentare giudizi positivi nei confronti di quell'allenatore di quella scelta e di quella decisione in realtà erano totalmente fuori dal mondo vuoi vedere che il bel calcio fa fare più soldi il buon calcio che si auspica che Tiago Motta possa proporre alla Juventus genera nuovo entusiasmo e fa accorrere nuovi tifosi deve essere proprio così altrimenti la cosa non si spiega ritrovato entusiasmo, grande energia, grande voglia subito da parte dei tifosi dell'Allianz Stadium di tornare a riempire l'Allianz Stadium appropriandosi di spazi che erano stati usurpati con narrazioni propagandistiche con la retorica del calpestare la bellezza con l'anticalcio perché bisognava giocare male per vincere e non bisognava chiedere altro demonizzando ogni critica e zittendo ogni dissenso ora tutto questo è finito per sempre i veri tifosi della Juventus che amano la Juventus e che hanno sofferto in questi anni si riappropriano del loro posto sugli spalti da cui non proverranno più molto probabilmente fischi, disappunto, disapprovazione, contestazione e malesseri vari ma entusiasmo come i palloni che dagli spalti rimbalzano e vanno a finire sul prato per accumularsi nel centrocampo con la T e la M di Thiago Motta il calcio di nuovo al centro della Juventus la Juventus di nuovo al centro del calcio i tifosi lo hanno capito, lo hanno percepito e hanno risposto sì alla chiamata e in questo bisogna anche dire brava alla dirigenza della Juventus per come ha studiato i piani di abbonamento per come li ha proposti anche a livello di tempistiche perché non dimentichiamo che la partenza dei piani di abbonamento la partenza dei rinnovi degli abbonamenti è stata in linea con le passate stagioni ma è capitata dopo l'esonero dell'incompatibile e quindi ecco che anche a livello di messaggi che sono stati dati, di notizie, di conferme, di ufficialità e di rassicurazioni sicuramente la tifoseria ha avuto validi motivi per scegliere di abbonarsi all'Allianz Stadium per la stagione 24-25 a tutto beneficio delle casse della Juventus ma anche dell'amore per la Juventus dell'entusiasmo, della passione e quindi nel rispetto poi dei tifosi che possono ritornare ad essere tifosi pienamente senza condizionamenti mentali senza alienazioni senza aberrazioni senza situazioni insopportabili che sono state rimosse la Juventus è liberata è tempo della nuova Juventus che riempie di nuovo l'Allianz Stadium con l'entusiasmo aspettando il bel gioco grazie a tutti 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 grazie a tutti